c'era una volta un re e una regina che vivevano insieme tranquillamente e avevano dodici figli tutti maschi allora il re disse alla moglie se il tredicesimo figlio che metterai al mondo sarà una bambina i dodici maschi moriranno perché ella abbia grandi ricchezze e il regno tocchi a lei sola e ordinò dodici bare già riempite di trucioli e in ciascuna sarà un guancialino funebre le fece portare in una stanza chiusa a tutti diede poi la chiave alla regina e le ordinò di non parlare a nessuno della cosa ma la madre passava tutto il giorno in grande tristezza e il più piccolo dei figli che le stava sempre accanto e che l'aveva chiamato con il nome biblico di beniamino e disse cara mamma perché sei così triste mio diletto non posso dirtelo rispose la regina ma egli non le diede pace fino a quando ella non gli aprì la stanza e gli mostrò le dodici bare già riempite di trucioli poi disse mio carissimo beniamino queste bare le ha fatte fare tuo padre per te e i tuoi undici fratelli perché se metterò al mondo una bambina voi dovrete essere tutti uccisi e sepolti qui allora il figlio rispose non piangere cara mamma ce la caveremo e ce ne andremo e la disse vai nel bosco con i tuoi undici fratelli e uno stia sempre di guardia sull'albero più alto che troverete e osservi la torre qui nel castello se nascerà un maschietto disserà una bandiera bianca e voi potrete ritornare se nascerà una femmina disserà una bandiera rossa e allora fuggite e che il buon dio abbia cura di voi ogni notte mi alzerò a pregare per voi d'inverno che possiate scaldarvi al fuoco d'estate che la calura non vi faccia languire dopo aver ricevuto la sua benedizione i figli sanno andarono nel bosco stavano in guardia uno dopo l'altro sulla quercia più alta e osservavano la torre quando furono passati undici giorni e il turno toccò a beniamino e gli vide che veniva passata una bandiera ma non era bianca bensì rosso sangue e annunciava che dovevano morire tutti quando i fratelli lo seppero andarono in collera e dissero dovremmo morire a causa di una femmina giuriamo che quando ne incontreremo una ci vendicheremo e faremo scorrere il suo sangue vermiglio poi entrarono nel profondo del bosco dove era più buio e là trovarono una piccola casetta vuota ma era stregata allora dissero qui abiteremo e tu beniamino che sei il più piccolo e il più debole rimarrai a badare alla casa mentre noi andremo a cercare da mangiare andavano nella foresta e uccidevano lepri caprioli selvatici uccelli piccioni e tutto ciò che vi era da mangiare riportavano a beniamino che doveva cucinarli perché potessero sfamarsi vissero insieme nella casetta era dieci anni e il tempo non parve loro lungo ma nel frattempo la bambina che la regina aveva partorito era cresciuta era bella e aveva una stella d'oro in fronte una volta mentre si faceva il bucato vide dodici camice da uomo e chiese a sua madre di chi sono queste dodici camice per il sono troppo piccole allora la regina rispose con il cuore grosso bimba cara sono dei tuoi dodici fratelli disse la fanciulla dove sono i miei dodici fratelli non ne ho mai sentito parlare la madre rispose lo sai dio dove sono vagano in giro per il mondo presse allora la fanciulla le aprì la stanza le mostrò le dodici bare con i truccioli e i guancialini funebri queste bare disse erano destinate a loro ma essi sono fuggiti di nascosto prima che tu nascessi e le raccontò quello che era accaduto allora la fanciulla disse cara madre non piangete andrò a cercare i miei fratelli prese le dodici camice partì e si addentrò subito nella gran foresta camminò tutto il giorno e la sera giunse alla casetta incantata entrò e trovò un ragazzino che le chiese dove vieni e dove vai e si meravigliò che fosse così bella portasse abiti regali e avesse una stella in fronte ed ella rispose sono una principessa e cerco i miei dodici fratelli e andrò fin dove il cielo è azzurro pur di trovarli e gli mostrò le loro dodici camice allora beniamino capì che era sua sorella e disse sono beniamino il tuo fratello più giovane e la si mise a piangere dalla gioia e beniamino fece lo stesso e si baciarono e si abbracciarono con grande affetto poi e gli disse cara sorella c'è ancora un problema avevamo deciso e patuito che ogni ragazza che si incontrasse doveva morire poiché fumo costretti a lasciare il nostro regno per una ragazza allora ella disse morirò volentieri se così potrò liberare i miei dodici fratelli no e gli rispose tu non devi morire nasconditi sotto questa tinozza fino a quando arriveranno gli undici fratelli poi mi metterò io d'accordo con loro la fanciulla obbedì e quando scese la notte gli altri tornarono dalla caccia e la cena era pronta sedettero a tavola e mentre mangiavano domandarono che c'è di nuovo beniamino disse non sapete nulla no risposero e gli continuò voi siete andati nella foresta e io sono rimasto a casa eppure non so più di voi orsù raccontaci esclamarono gli altri e gli rispose mi promettete anche che la prima fanciulla che incontreremo non sarà uccisa sì esclamarono tutti le faremo grazie ma racconta allora egli disse qui c'è nostra sorella sollevò la tinozza e ne uscì la principessa in abiti regali con la stella d'oro in fronte era molto bella delicata e fine tutti allora se ne rallegrarono le saltarono il collo la baciarono e l'amarono con tutto il cuore ora e la rimaneva a casa con beniamino e lo aiutava nei lavori domestici gli undici fratelli andavano nel bosco e cercavano selvaggina caprioli lepri uccelli e piccioncini perché potessero mangiare e la sorella e beniamino pensavano a prepararli ella cercava la legna per cuocere le erbe per la verdura e le metteva sul bosco cosicché il pranzo era sempre pronto quando gli undici rientravano teneva inoltre in ordine la casetta e preparava i lettini con biancheria bianca e pulita e i fratelli erano sempre contenti e vivevano in grande armonia con lei per un certo periodo di tempo i due a casa prepararono buoni cibi e quando si trovavano tutti insieme sedevano mangiavano bevevano ed erano felici ma la casetta stregata aveva un piccolo giardinetto nel quale c'erano dodici gigli chiamati anche fiori di sant'antonio un giorno ella voleva fare un piacere ai suoi fratelli colse i dodici fiori e pensava di regalarne uno a ciascuno durante la cena ma come ebbe colto i fiori in quel madesimo istante i dodici fratelli furono tramutati in dodici corvi che volarono via per la foresta e anche la casa al giardino sparirono ora la povera fanciulla era sola nella foresta selvaggia e quando si guardò intorno vi era accanto a lei una vecchia che disse ah bimba mia che hai fatto perché non hai lasciato stare i dodici fiori bianchi erano i tuoi fratelli che ora sono tramutati in corvi per sempre la ragazza disse piangendo non vi è nessun modo per liberarli no disse la vecchia non viene che uno in tutto il mondo ma è così difficile che non riuscirai a liberarli perché devi essere muta per sette anni e non puoi né parlare né ridere e se dici una sola parola e manca soltanto un'ora ai sette anni tutto è vano e i tuoi fratelli saranno uccisi da quella sola parola allora la ragazza disse in cor suo voglio liberare i miei fratelli ad ogni costo andò in cerca di un albero alto ci si arrampicò e lì filava senza parlare né ridere ora avvenne che un re andò a caccia nella foresta aveva un grosso levriero che corse all'albero sul quale si trovava seduta la fanciulla e cominciò a saltare tutt'attorno abbaiando e latrando verso la cima il re allora si avvicinò e vide la bella principessa con la stella d'oro sulla fronte e fu così rapito dalla sua bellezza che le domandò se voleva diventare sua sposa e la non rispose ma fece un lieve cenno con il capo allora egli salì sull'albero la portò giù e la mise sul suo cavallo le nozze furono cerebrate con gran pompa e tripudio anche se la sposa non parlava né rideva quando avevano trascorso insieme felici un paio d'anni la matrigna del re che era una donna cattiva cominciò a calunniare la giovane regina e disse il re è una volgaria cattona quella che ti sei portato a casa chissà quali malvagità combina in segreto se è muta e non può parlare potrebbe almeno ridere ma chi non ride ha una cattiva coscienza il re da principio non volle crederle ma la madre insistette così tanto che egli alla fine si lasciò convincere e la condannò a morte nel cortile fu così acceso un grande fuoco da cui ella doveva essere bruciata e il re da sopra guardava con gli occhi pieni di lacrime poiché l'amava ancora tanto e quando era già legata al palo e le lingue di fuoco lambivano già le sue vesti ecco trascorso l'ultimo istante dei sette anni nell'aria si di un frullardali arrivarono dodici corvi e si posarono a terra e come ebbero toccato il suolo si trasformarono nei suoi dodici fratelli liberati da lei essi distrusse il rogo spensero le fiamme slegarono la loro cara sorella la baciarono e la bracciarono ora potè schiudere la bocca per parlare e raccontò al re perché prima fosse muta e non avesse mai riso il re si rallegrò che essa fosse innocente e vissero tutti insieme felice e in armonia fino alla morte la cattiva matrigna fu messa in una botte piena di olio bollente e di serpenti velenosi e morì di una mala morte